Foracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e si diventa ogni volta sempre più poveri nonostante ogni video sia ricchissimo. Oggi ci prendiamo una pausa dal TG Poro per fare una sorta di riassuntone di tutte le uscite di novembre, perché dopo un ottobre così carico di titoloni il prossimo mese non sarà da meno ed è meglio decidere preventivamente dove investire i propri soldi. E poi come andremo a vedere novembre in realtà è uno di quei mesi dove ci sono tantissimi acquisti evitabili, ma so per certo che molti di noi cederanno di fronte all'hype per il day one. Prima di iniziare però come al solito l'invito è quello di mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di partire è specifico ovviamente che ho fatto una selezione dei titoli che ritenevo più interessanti, non sono necessariamente tutti quanti dei must buy, ma più che altro dei giochi che possono esercitare il loro fascino. Ad esempio partiamo con Eterna Noctis il 4 novembre. Si tratta di un titolo di nicchia, un indie a cura di uno studio spagnolo che ha tentato di dare vita al metroidvania più difficile di sempre. Il gioco uscirà su Switch, ma in realtà è disponibile su PC da quasi un anno e le recensioni sono tutte positive e parlano di un gioco impegnativo, a tratti frustrante, soprattutto nelle fasi di combattimento, ma che di sicuro gli appassionati del genere sapranno apprezzare nonostante i suoi evidenti limiti. Non so, a me ispira parecchio e il prezzo è budget, ma si potrebbe fare di meglio. Rimaniamo ancorati al 4 novembre del turno di altri due titoli per Nintendo Switch. Per primo abbiamo Arvestella, uno dei tanti live sim protagonisti del Nintendo Farming Direct. Qui Square propone un ibrido tra dungeon crawling e farming simulator, qualcosa di molto simile a Rion Factory. Insomma, mazzate, zappate e craftate, tutte insieme in un unico pacchetto. Arvestella non fa per me, ma magari voi potreste essere interessati. Date un'occhiata alla demo su eShop per farvi un'idea più approfondita sul titolo. E poi, sempre il 4, arriva anche la versione Switch di It Takes Two. Qui la curiosità potrebbe giocare brutti scherzi. Abbiamo il titolo multiplayer definitivo, il GOTY 2021, che è stato già stra-apprezzato su altre console. E in particolare per me è davvero lodabile la possibilità di giocare non solo in due con un Joy-Con a testa, ma anche in multiplayer online con una sola copia del gioco. Però lo abbiamo visto con Alan Wake. Purtroppo, delle conversioni su Switch non ci si può affidare a prescindere e prima di gettarmi su It Takes Two, in versione ibrida, fossi in voi aspetterei qualche recensione o ancora meglio, qualche analisi tecnica delle performance. Non esistono porting impossibili, ma non per i giochi di calcio. Almeno così sembra. Anche la famosa serie di gestionali calcistici, Football Manager, arriva su console ibrida in una versione light chiamata Touch, pensata per alleggerire un po' il gioco e adattarlo ai device portatili. In realtà, nonostante qualche problema di interfaccia, gli episodi passati hanno riscontrato il favore della critica e l'edizione 2023 potrebbe rappresentare un bel passo in avanti per tutta la serie. Football Manager 2023 Touch esce l'8 novembre, ma purtroppo questa uscita sarà oscurata dall'arrivo il giorno seguente di Sonic Frontiers, che a sua volta sarà oscurato dall'arrivo il giorno seguente... Vabbè, andiamo con ordine. Ma insomma, questo Frontiers fa schifo o no? Dalla campagna marketing non ci si è capito niente, l'impatto iniziale col titolo è stato tremendo, eppure piano piano, demo dopo demo, la critica si è in parte ricreduta sul nuovo Sonic in tre dimensioni e ora non è così raro leggere pareri moderatamente entusiasti nei confronti del titolo. Però qui abbiamo un bel dilemma, quello del prezzo pieno. Anche se il preorder è in sconto su Amazon da un bel po', chi se la sente di spendere 50€ su un titolo che potrebbe essere una monnezza come un ottimo gioco, ma che in più probabilmente calerà di prezzo molto in fretta. Non lo so, io sono tentatissimo, più che altro perché ho creduto nel progetto da subito, però se farò la pazzia mi sa che lo prenderò su PS5, ho l'impressione che la versione Switch sarà ottimizzata da cani. Voglio andare controcorrente a dire che lo stesso discorso lo possiamo applicare anche a God of War Ragnarok, con le dovute proporzioni ovviamente. Si tratta di uno dei probabili goti 2022, la critica è già impazzita con le anteprime e sicuramente sarà uno di quei giochi epocali, anche se magari non avrà la stessa carica innovativa del suo predecessore. Ma lo abbiamo visto con tutte le produzioni first party Sony, basta aspettare veramente poco e il prezzo assurdo del day one crolla drasticamente nell'arco di poche settimane o dai, qualche mese. Vale veramente la pena investire 80€ per giocare il 9 novembre a Ragnarok? Non c'è una risposta corretta, però sono domande che vanno poste. Siamo arrivati a un terzo del mese e molto probabilmente il budget di tanti di noi si sarà già esaurito, ma purtroppo o per fortuna le uscite di novembre non si esauriscono con Ragnarok. Ne abbiamo parlato nel TG Poro di qualche giorno fa, ma Tactics Hogar è uno di quei ritorni storici che non dovrebbe essere sottovalutato, ma che purtroppo, proprio per la sua infelice collocazione, passerà in sordina. L'11 novembre potrete scegliere la vostra piattaforma di riferimento tra PC, PlayStation e Switch per rivivere questo grande classico dell'era PS1 e PSP in una versione ottimizzata a dovere per rendere presentazione e gameplay al passo con i tempi. Ora vi lancio una vera chicchetta, Pentiment di Obsidian. Questo è sicuramente un progetto minore dello studio specializzato in RPG, ma uno stile del genere non lo avevo mai visto, soprattutto se applicato a giochi di ruolo o di stampo narrativo. Questo murder mystery ambientato nell'Europa del XVI secolo è una bella scommessa, sì, ma per fortuna, grazie al Game Pass, si riescono ad ammortizzare spese del genere. Aspetto che però risolve solo una parte del problema. Abbiamo messo da parte i soldi, ma non il tempo per giocarci. Comunque, lo stesso giorno, il 15 novembre, tenete gli occhi aperti per il vero Mario Kart killer, ovvero i Puffy Kart, Smarfs Kart, e già sento puzza di capolavoro. E poi c'è anche il quarto capitolo della serie di Siberia, o Siberia, che è già uscito a inizio anno su PC e ora è pronta a sbarcare sul next gen il 15 novembre. E poi, nel 2023, su Switch e PlayStation 4, in quella che presumo sarà una versione downgradata. Io sono affezionatissimo ai primi due capitoli, ma so che il terzo è stato un gioco atroce. Il quarto pare essere stato accolto con molto più entusiasmo e il mio consiglio è quello di dare una chance ai primi due giochi se siete amanti delle avventure grafiche vecchio stile. Spesso su eShop sono scontati a prezzi veramente ridicoli. Il 16 novembre, uscita molto poraccia con il free to play Warzone 2, su tutte le piattaforme tranne che su Switch. E poi, il 17, ci sarà GOT Simulator 3. Titolo dal grande potenziale, ma che secondo me è uno di quei giochi da prendere o in super sconto o da provare una volta giunti al pass o al PlayStation Plus. Però, vogliamo parlare della genialata di passare dal primo episodio direttamente al terzo? Che roba! E chiudiamo con l'acquisto più sbagliato di tutti, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Se con Spada Scudo potevamo dare il beneficio del dubbio a Game Freak e con Arceus c'era una sensazione di novità che faceva passare sopra tutti gli evidenti difetti, mi rimane proprio difficile essere emozionato o anche incuriosito abbastanza da prendere seriamente in considerazione l'acquisto del nuovo gioco Pokémon. Non so a voi, ma a me le preview mi hanno detto veramente poco e anzi mi sembra che siano stati fatti dei passi indietro rispetto a leggende Pokémon Arceus. Ma poi tanto lo sappiamo come va a finire, arriva il 18 novembre e ci caschiamo tutti quanti. Una storia che ormai si ripete da anni. Voi poracci farete la follia acquistando Pokémon al day one? Ah e poi velocissimamente un consiglio bonus, un'altra scommessa non da poco, ma quanto sembra ignorante Evil West. Dopo l'esperienza maturata con il Shadow Warrior, il team di Flaming Hog se ne esce con un action in terza persona che è stato giustamente descritto come il Gears of West. E da nostalgico di quel tipo di action super ignorante, un po' sto sbavando dietro questo titolo. Il 22 novembre uscirà su Current e Old Gen, oltre che PC ma non si affaccerà su Switch. Non è neanche prevista l'inclusione sul Game Pass e purtroppo ci troviamo di fronte a un prezzo pieno che difficilmente saremo in grado di affrontare dopo un mese del genere. Però intanto segnatevi questo nome perché Evil West potrebbe essere una delle sorprese di questa fine 2022. E questo poracci era tutto per oggi, vi aspetto nei commenti per sapere quale sarà il vostro piano di azione per questo novembre 2022. Mi raccomando sono curiosissimo di sapere se farete i poracci fino in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo, sonni tranquilli ma soprattutto nerdate duro, durissimo! Io sono il poro novembre, Michele uscite, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Possono esercitare il loro fascino Super sex, 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 sex.